buongiorno e benvenuti al reparto flotte e veicoli commerciali di gruppo carmeli oggi vi presentiamo reno master autotelaio cabinato completo di allestimento cassone fisso il veicolo in configurazione trazione anteriore ruota singola compasso 3600 e motore da 2,3 litri 135 cavalli nella motorizzazione euro 6 di temp l'allestimento misura 3,4 metri di lunghezza con fondi in ultistrato marino e sponde da 400 con doppio portapali l'anteriore con rete e il posteriore estraibile il cassone si completa con cassetta portatrezzi e ganci perimetrali a scomparsa la portata del veicolo traguarda la quota record per un cassone 14 quintali la cabina di questo gran lavoratore è risultato di un restyling recentissimo rinnovata nel design muscolare moderno mantiene i punti essenziali del family feeling renault la calandra allargata il paraurti specifico con pedana d'accesso e la griglia con profili cromati fanno da cornice al nuovo volto di reno master ovvero i grandi gruppi ottici con fari a led che gli conferiscono un'estetica di eccellenza assoluta l'interno della cabina si caratterizza per una linea sobria ed elegante vani porto oggetti a volontà e comandi al volante pratici intuitivi sono tra gli elementi di spicco dell'abitabilità del veicolo che raggiunge il massimo degli standard in due particolarità da prima la facilità nel passaggio dalla zona di guida alla zona passeggeri secondariamente il perfetto allineamento tra il baricentro del sedile di guida e il piantone dello sterzo se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto e chiamaci al numero 0 30 77 24 0 11 i nostri consulenti saranno a tua completa disposizione